Buonasera da Canale Sicilia, questa sera è qui con noi un personaggio che abbiamo già avuto il piacere di incontrare, un attore, regista che sta avendo un enorme successo con il suo cortometraggio, 8 euro, vi presento, eccolo qui, salve Tony Morgan. Ciao Cristina, ci rivediamo, ci rivediamo. Con piacere, allora Tony, noi vorremmo sapere come sta andando, abbiamo visto che ha ricevuto numerosi premi in questo film, come sta andando, raccontaci un po'. Allora, il film va benissimo, apro una parente e chiudo con un cugino, voglio intanto salutare il regista Daniele Di Mauro che si è fatto male ed è ricoverato all'ospedale, sembra che la cosa si sia, siamo un po' tranquillizzati che la cosa non è così grave, insomma. Bene, auguri anche da parte nostra. Poi ci salutiamo anche il direttore della fotografia, Valentina Di Mauro, il montatore Daniele Lecce, che sono il trio insieme a me che abbiamo realizzato questo film e portato veramente in alto. Come va? Va straordinariamente bene e grazie a te anche mi hai portato fortuna l'altra volta, il film non mai, siamo arrivati a centinaia di migliaia di visualizzazioni su Facebook, su Youtube, dappertutto. Il film è visto, è visto anche che in America in questo momento, a Manhattan, grazie a Pepito, alla grande distribuzione che alimentare sia che c'è il ristorante, che pizzerie vale, se lo passano uno c'è con l'altro, a Melbourne in Australia, in Italia, in Italia, siamo anche i poveri, non mancano o c'è da nessuna parte. Il film sta ottenendo dei premi che riconoscimenti straordinari, il premio della critica 2013, non ce l'aspettavamo, abbiamo vinto l'ultimo festival a Torino straordinariamente, grazie al pubblico che ha votato, ha stravinto proprio 8 Euro, così a gravina, ha stravinto come a San Giovanni c'è la punta, come ad Acqua e Dolci, come ormai 8 Euro ha vinto dappertutto, perché è un film sociale, importante, è un film che parla in questo momento la nostra storia, la storia di un vecchio che vive con 8 Euro al giorno, mentre c'è gente con 2, 3, 4 mila Euro, si lamentano, riesce a vivere, invece lui deve vivere con 8 Euro al giorno. Prego, è suo turno, mi dica. Ah sì, sì, capiamo formaggio in offerta? Eh no, formaggio in offerta no, però se vuole le posso dare questo tipo di formaggio, è buono e anche economico. Ah sì, sì, buono. Va bene? Sì, sì. Ok, quindi facciamo duetti? Sì, sì, no, 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 che sono goloso, io me lo mangerei tutto, ma non posso, non posso perché ci sono questi anziani, noi dobbiamo tutelarli, mi rivolgo anche alla politica, dobbiamo tutelarli, dobbiamo dargli un po' di tranquillità perché è importante. Bene, sicuramente tu questo successo non te lo saresti aspettato, che cosa ti prova a vincere tanti premi? Guarda, devo dire una cosa, sono felice per due motivi, uno perché il film è siciliano, uno perché l'ho scritto, sono un siciliano e terzo perché non ci credeva nessuno, Cristina credimi, non ci credeva nessuno, io ho dovuto faticare all'inizio a scegliere gli attori, alcuni addirittura, perché io dico sempre che la mamma dei credini è sempre incinta, ci ridevano sopra, 8 euro, 110 euro, basta che la finisci. Oggi invece, devo dire, mi telefonano a quelli e mi dicono scusami, non abbiamo capito il film, perdonami, il prossimo che fai io sono a disposizione, indubbiamente, siccome mia mamma non è incinta e non è credina, io non li prendo. Bene, quindi grande soddisfazioni, personale, professionale. Solo perché è siciliano, Cristina, è un film siciliano prodotto da siciliani che non si piangono addosso, è un film fatto senza soldi, perché se noi aspettavamo dei soldi questo film non si sarebbe mai fatto. Allora noi siamo andati, ma proprio con grande forza, io ho voluto i film, io insieme a questi ragazzi abbiamo raccolto tutto quello che è in materiale, voglio dire, chi era, non so, chi aveva la telecamera, chi aveva quello, chi aveva quella, insomma, ognuno ha messo un pedale, i panini, ce li compravamo noi. Sì, però abbiamo fatto un prodotto, un prodotto che in questo momento lo vedono in tutto il mondo, ma soprattutto è un questo momento, è un film che se ne parla tanto, anche a livello politico, anche nelle, i to show, dicono i film di Tony Morgan, 8 euro, è perfetto, visto il momento che stiamo vivendo, voglio dire, però la soddisfazione di che centinaia di migliaia di persone hanno visto il film, un film senza soldi, non mi sono mica pianto addosso, l'ho fatto. Bene, io so che queste soddisfazioni ti hanno dato invece ancora di più la volontà di andare avanti, di continuare e so che hai già un altro progetto pronto che sta per partire, ce ne parli? Certo, il coraggio di non farlo è la storia di un altro, un film duro, Cristina, che rispecchia purtroppo il nostro status nel momento, molti commercianti, imprenditori, voglio dire, purtroppo vanno a gamballaria, come si dice, purtroppo a volte le mente sono anche deboli, Poi purtroppo la cronaca ogni giorno ce n'è sempre qualcuno, perché poi fondamentalmente non è tanto il debito e quando si viene a toccare quello che è la materia prima, diciamo che la casa, quando si tocca c'è la casa, allora io penso che c'è lì che scatta un meccanismo. Vabbè, io in questo film come 8 euro voglio dare, come al pensionato di 8 euro, grande dignità, non che si piangi addosso, anche qui voglio dare un messaggio di grande positività. Ecco perché in questo momento sono impegnato su sociale, perché in questo momento io spero, spero che un piccolo contributo io ce lo possa dare, non a risolvere un problema che non spetta a me, ma alla politica anche in generale, agli uomini di buona volontà, voglio dire, ma io nel mio piccolo voglio dire, essendo artisti a volte si dicono che siamo superficiali, dicono, ma non è mica vero. Allora Tony, anche per questo nuovo film, il cast, come lo comporrai? Sempre attori siciliani, location siciliane, dacci qualche anticipazione. Allora, la location siciliana, perché sono siciliano, anche lì sceglierò i posti belli, voglio dire, e voglio chiudere i film a Sant'Agata, al castello, ma soprattutto girare nei posti proprio belli, nella disperazione la voglio far vedere anche la nostra bella Sicilia, come il film a 8 euro, la via dei pittori, la carta girone, le scalinate, ecco così. Il cast è siciliano, darò la possibilità a tanti giovani attori e attrici che non hanno avuto la possibilità in passato di mettersi in mostra, io con questo film i migliori li scelgo. Le gatte morte? No. Però, diciamo, come esempio, i calandri che ho portato, che conoscerai fra breve, ti voglio dire, che sono due artisti siciliani, sono straordinari. Io li ho visti nei concorsi dove ho partecipato, 8 euro, li ho visti con i loro videoclip, devo dire, sono due... Come sono? Sono bravi? Sono simpatici? No, guarda, devo dire, umanamente sono due persone per bene, sono due artisti, connubiare le persone per bene, due bravi artisti non è facile, loro hanno questa cosa. Sono bravi perché mi piace il modo di fare musica, mi piace la loro professionalità, mi piace come si pongono, non sono megalomani, ma sono delle persone che hanno veramente l'arte dentro. E a me, da buon siciliano, portare delle persone che hanno queste caratteristiche nel film, per me è un grande onore, perché è inutile che noi portiamo sempre gente di Milano, Torino, Venezia, per carità, con tutto rispetto. Noi non abbiamo nulla da invidiare, noi abbiamo degli attori, attrici, carismatici, intelligenti, ma bisogna dargli solo la possibilità, perché noi qui non siamo a statuto speciale in Sicilia, perché siamo gente, noi odiamo lo statuto speciale, noi siamo persone intelligenti, ci bisogna dare la possibilità ai nostri giovani di poterci esprimere e poi ci accogliamo tutti quanti dei risultati. Bene, prima di conoscere gli amici che ci hai portato, l'ultima domanda, una scadenza, una data, quando potremo vedere questo nuovo film? Hai già un'idea? Sì, io spero di finirlo a più presto, perché poi ho un'altra idea, un altro progetto. Un buccano sei? Sì, ma io sono un buccano, io a quest'età, voglio dire, non mi fermo, il giorno che mi fermo, evidentemente avrete una notizia, altra c'è notizia, io in questo momento non mi voglio fermare. In questo momento so che posso dare molto e so che in questo momento c'è molta gente che spera che io ci realizzi. I sogni, cara Cristina, non finiscono all'alba, finiscono all'alba per coloro che non credono, per coloro che credono, hanno fiducia nel futuro. I sogni non finiscono mai all'alba, i sogni sono belli perché uno deve sognare. Se uno toglie il sogno, ha tolto tutto, ha tolto la vivacità, c'è la voglia di vivere. Ai ragazzi dico sempre, non pretendete, nulla vi è dovuto nella vita, bisogna adottare con grande speranza, con grande forza. E ottiene, come il film che so per realizzare. Una data certa non c'è, non c'è nel senso, io penso di farlo adesso, ma penso entro luglio che la cosa si possa... Insomma, fine estate questo film deve essere finito perché deve partecipare a tanti concorsi che ci sono e se ho la fortuna di farlo in tempo, voglio presentarlo a Venezia e a Taormina e nei concorsi che conto. Voglio portare la mia Sicilia in Italia per conoscere soprattutto un progetto di grande speranza e le bellezze della mia Sicilia. Noi te l'auguriamo e è una piccola cosa che vorremmo, ci aspettiamo, almeno l'invito all'anteprima. Voi sarete i primi alla conferenza stampa che farò invitare, i primi alla prima del film di Il Coraggio di Non Farlo e il primo a venire a essere intervistato da una grande giornalista, soprattutto perché è un grande onore e aver conosciuto te, ma soprattutto ogni volta che vado in televisione vedo sempre delle persone che magari a volte non sanno usare né la parola né nella televisione. Oggi mi sono trovato bene, grazie. Grazie a te.